che ha voluto organizzare queste capricce di Olorfo, un territorio da portare. Forse tutti, non sappiamo nemmeno io, che a Trappeto si faceva la cassatella di fagioli. Trappeto era uno dei paesi tipici che faceva questa cassa. Oltre a fare fagioli di ceci e quello di ricotta, si faceva la cassatella, i nostri padri, i nostri mammi, i nostri nonni, facevano questa cassatella. E vi dico una cosa, che io ho assaggiato, ed è un dolce tipico nostro di Trappeto. Ci saranno degli esperti che vi porteranno conoscenza come si faceva, il motivo perché si faceva questa cassatella. Io vi ringrazio a tutti di essere qui presenti, ringrazio la classe che è stata l'organizzatore di questa cosa, tramite il GAL, Petro Puccio che non è stato presente, ma c'è il dottor Ferrarello che è presente. Stasera ci sarà degustazione, oltre a questo tavolo, ci sarà una degustazione di fronte al Comune, con un compresso che porterà avanti una bellissima manifestazione. Fate venire i vostri genitori e vi aspetto tutti di fronte al Comune e saremo tutti insieme. Va bene? Buongiorno a tutti e grazie. Grazie.